Il nostro inviato a Lampedusa, Matteo Parlato, ha intervistato il parroco dell'isola. Allora, sentiamo. Per raccontare l'arrivo e la partenza dei migranti qui da Lampedusa, noi usiamo sempre i numeri, ma non bisogna scordarsi che questi non sono numeri, sono persone. Lei che li ha conosciuti? Che persone sono? Sono persone normalissime, come ognuno di noi, con storie particolari, magari si trascinano dietro dei fallimenti della vita o prove particolari della vita. hanno storie che vanno condivise per meglio comprendere, meglio capire anche il motivo che li porta a tralasciare la propria terra, perché questo non lo dobbiamo mai dimenticare. C'è un uomo che tralascia la propria terra e un po' sta rinunziando a una parte della sua identità. Di queste persone, alcune lei le ha sepolte e altre le ha battezzate? Abbiamo condiviso la gioia della vita nuova che inizia col battesimo, nella fede, con qualcuno di loro e con loro abbiamo condiviso anche diverse volte il dolore. Il dolore è con ragazzi che possibilmente nessuno mai riuscirà a piangere perché non sapranno neanche che sono morti. Prendi coscienza, consapevolezza di quanto rischioso è il viaggio che tante volte loro iniziano dai loro paesi con una destinazione naturalmente che non saprai mai se si realizzerà o meno.